La CGL chiede alla CNA regionale di aprire una trattativa sulle decisioni prese dalla Confederazione degli Artigiani sui contratti dei propri dipendenti. Tutti i particolari con Giorgio Maria Leone. Un taglio alle retribuzioni fino a 400 euro al mese per i dipendenti di CNA Emilia Romagna a causa delle difficoltà di bilancio. La Confederazione degli Artigiani, spiega la CGL, lo ha deciso senza aprire un confronto sindacale col progressivo azzeramento degli integrativi ed il passaggio dal contratto del commercio a quello delle aziende artigiane della comunicazione, meno oneroso ed inappropriato rispetto alle reali mansioni svolte. Serve una trattativa e il ragionamento del sindacato per individuare insieme il percorso migliore d'uscita dalla condizione di crisi. CNA rispetti il patto per il lavoro che ha sottoscritto e che impegna le parti sociali a non procedere con atti unilaterali. Mentre CNA firma con noi il patto per il lavoro dove si condivide di sostenere una competizione attraverso gli investimenti, contestualmente fa operazioni di questo tipo, cioè decide di tagliare i diritti dei lavoratori, impoverisce il lavoro, impoverisce l'offerta, dequalifica il settore. C'è poi una questione che non si ferma a CNA, si determina anche sul settore di riferimento e diventa una, come dire, una far west dove ognuno tenta di fare quello che può sui costi più bassi. CNA ha disdetto formalmente i contratti, ha spiegato il segretario regionale Enrico Amadei, ma finora ha congelato ogni cambiamento. L'intenzione è quella di riprendere il dialogo con i sindacati. Credo sia importante oggi un confronto per trovare una condivisione a soluzioni che interessano sia la CNA, sia i lavoratori, sia i rappresentanti dei lavoratori, proprio perché il capitale umano è una delle questioni più importanti di un'organizzazione come la nostra.